Un aperitivo con 250 kg di acciughe e pesci freschissimi presi dai pescatori nel mare davanti ad Arenzano. Sono andati letteralmente a ruba i cartocci di pesce infarinato e fritto preparati dai pescatori di Arenzano per l'aperitivo di ieri, in occasione della festa dell'acciuga organizzata dalla Porto di Arenzano S.P.A. Le offerte, 5 euro per una porzione, serviranno ai pescatori per ricostruire le loro casette di fianco al porto spazzate via dalla tromba d'aria del 19 agosto scorso.